Volete scoprire cosa c'è di nuovo? Non vi resta che guardare insieme le persone. Sigla! Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una macchinazione. Benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee Persone. Come sapete il nostro talk ha la pretesa, basatevi in termini, di essere punto di confronto fra gli ospiti qui a casa e il giudizio, l'opinione vostra a casa, dove ovviamente avete la possibilità di fare commenti con la nostra pagina Facebook o anche telefonando direttamente qui in redazione. Diciamo subito che c'è l'opportunità non solo di guardare qui in diretta sugli studi di canale 15, che sarebbe poi alla fine la struttura di canale Italia, quindi a rubano, ma nello stesso tempo anche sulla pagina Facebook. Basta andare, lanciamo il format Marchetto, ecco qua insieme delle persone sulla pagina Facebook, quindi la possibilità di andare direttamente sui social, schiacciare insieme delle persone, mettere magari mi piace alla pagina e compare questa scritta nera, cliccare guarda ora e poi vedete che succede quando si clicca. Ecco qua, la diretta, esattamente corrispondente a quello che succede qua in diretta, c'è solo uno sfasamento di qualche secondo. Oggi gli argomenti sono interessanti, di PCM sì, no, come al solito questo governo che pecca un po' di coerenza e è riuscito a dire 300 cose una in contrasto con l'altro, quindi una settimana molto intensa dal punto di vista delle novità, i decreti di sicurezza di Salvini smantellati dall'oggi al domani, qualcuno dice meglio, qualcuno dice peggio, ne parleremo con gli ospiti. Però prima di tutto ve li vado a presentare, perché ovviamente siamo ancora in attesa di un ospite che evidentemente ha avuto qualche impegno e sta arrivando. Vi presento sicuramente Jacopo Maltauro, che è consigliere delegato delle politiche giovanile e vice capogruppo Lega, comune di Vicenza. Grazie direttore, buonasera a tutti gli telespettatori. Benvenuto. Ecco, lei non lo sa, Jacopo Maltauro, ma il nostro Jacopo è il primo, l'abbiamo messo anche un post in questi giorni, è il primo ospite, la prima poltrova a cui abbiamo dedicato esclusivamente per i giovani. Jacopo è giovanissimo e siccome noi vecchi siamo, dico vecchi, tanto per differenziarci, intendo è una battuta, ci accusano i giovani che vogliamo tenerci il potere, che vogliamo tenerci tutto noi, che non lasciamo spazio ai giovani, allora ho pensato quale cosa migliore è quello di lasciare invece una poltrona dedicata ai giovani. Quindi questa poltrona sarà sempre per un giovane e quindi vi invito anche i politici a proporsi in questo senso e vi posso dire che è stato un successo perché abbiamo la poltrona che adesso è da Jacopo Maltauro, è prenotata fino a metà novembre con tutte le persone nuove che si avvicineranno qui in studio. Poi aspettiamo Giacomo Cusumano, invece abbiamo Francesco Scopelliti, Italia Viva Padova, bentornato. Buonasera, la seconda poltrona dei giovani è la mia. Non volevo fare classifiche, però se lei vuole, però se lei vuole, se lei vuole possiamo darla. Sono diversamente giovane, ma mi sento... Guardi, se lei aspira a questa poltrona... Ho l'animo di un quindicenne. E allora, la freschezza, la freschezza di un quindicenne, l'esperienza di uno, cioè che noi abbiamo l'esperienza che serve, ma la freschezza dei giovani. E poi abbiamo invece Paolo Zambon, titolare della Discar Broker Venezia. Buonasera a tutti, in sequenza sono il meno giovane, mi sembra di capire. Ecco, cominciamo con le classifiche, però finalmente abbiamo il titolare di Discar Broker, perché molti... Se vuoi sapere che Discar Broker è stato, è ancora, sarà ancora main sponsor delle puntate, e allora qualcuno ha anche chiesto, ma chi è il titolare, ma come funziona? Ecco, finalmente abbiamo la possibilità di chiedere direttamente a Paolo Zambon come funziona il noleggio. Perché se lo dico io, magari posso, come dire, omettere qualche particolare... Ma lei lo può dire meglio di lei. Ecco, chi meglio di lei? Allora, ci racconti un po'. Più che altro, cerchiamo di contestualizzarlo, perché il noleggio è in vigore... Voi avete una struttura che ha oltre 15 anni in esperienza, però nello stesso tempo, mai come ora, il noleggio sembra fatto apposta per la situazione che stiamo vivendo, quindi poco impegno di capitale, con pochissime risorse, ma sia disponibile un mezzo. Quindi vuole un po' spiegarci come funziona. Sì, in effetti ha già anticipato due aspetti fondamentali di questo strumento, che, come anticipava, la nostra attività è da oltre 15 anni che operiamo, soprattutto nel nostro territorio. Quindi che è Venezia, Treviso, Padua. Venezia, Treviso, Padua, però principalmente la gran parte dei nostri clienti che sono in queste tre province. È una formula che non è nuova, ma è da un paio d'anni che comincia a essere sempre più utilizzati. Anni fa era ad appannaggio di grosse aziende con parchi importanti di autovetture, oggi invece è un prodotto che si rivolge anche ai privati. E va a sostituire la tradizionale modalità di acquisizione di un veicolo, che è l'acquisto dello stesso in proprietà. Quale vuole essere il motivo di questa sostituzione? Appunto, noi siamo l'unico interlocutore per il cliente e quindi non gli forniamo solo l'autovettura, ma anche tutti i servizi ad essere necessari. Sintetizzo. La tassa di proprietà, le assicurazioni, non solo l'RC, ma anche l'incendio furto, casco completa, qualsiasi tipo di intervento di manutenzione necessita il veicolo, i pneumatici compresi gli invernali, le sostituzioni nei cambi stagioni, l'assistenza H24 e in caso di fermo gli forniamo un altro veicolo per garantirgli comunque la mobilità. Per accedere a un veicolo non c'è l'esborso del capitale. Ecco, quindi la interrompo Zamora. Quindi questa è una cosa importante, perché molti pensano al noleggio, ma chissà cosa c'è. Invece è tutto il contrario, c'è una sola rata unica, uno non deve pagare altre cose, tutto compreso, uno non deve preoccuparsi di andare a fare la fila per il bollo, non deve fare l'assicurazione. E poi la cosa interessante è che comunque alla fine questo rimane l'unica spesa vera, diciamo della... Si, si viene tutto sintetizzato in un carone mensile. Ma poi alla fine se si fa un'analisi economica della spesa, il cliente va anche a risparmiare. La cosa sembra un po' strana, dici, ma come fai? Mi fai tutto, mi dai l'auto, mi gestisci qualsiasi tipo di intervento, non so, gestione dei sinistri, guasti fuori garanzia, mi dai un veicolo per garantirmi la mobilità quando il veicolo si rompe e mi fai risparmiare. Non c'è nulla di strano, è molto semplice. Il risparmio riusciamo a generarlo con i grossi volumi di autovetture che noi intermediamo. Faccio un semplice esempio economico. Se lei, dottor Loveno, va in cartoleria a comprare un quaderno, lo paga 2 euro. Se io compro 50.000, non 2.000, 50.000 quaderni, magari lo pago 1,50 euro. Se lo cedo a lei a 1,70 euro, io ho guadagnato 20 centesimi, altrimenti se non avessi una reddittività non potrei esistere. Però lei ha risparmiato 30 centesimi. Questo per dire cosa? La società di non raggiungo termine, che mediamente abbiamo un parco circolante di 150.000 veicoli, acquistiamo 50.000 veicoli all'anno. Acquistiamo 150.000 assicurazioni. Manutenzioni per 150.000 veicoli. E quindi trasferiamo il vantaggio economico al cliente. Posso fargli due domande? Sì, ho. Due domande? Certo. Fai pagare un anticipo? Seconda domanda, si paga qualcosa al chilometro? Allora, l'anticipo ci può essere o meno. Nel senso, c'è il cliente che preferisce avere un impegno mensile più basso e ha della liquidità che inutilizzata preferisce versare un anticipo e questo determina una rata mensile più bassa. Il costo dei chilometri. Allora, i nostri contratti hanno i due parametri che determinano il costo della mobilità. Quindi, quando stipulo un contratto con il cliente, definisco il tempo e la percorrenza. Perché solo con questi due parametri posso calcolare il costo di utilizzo del veicolo. Faccio un esempio. Se, anziché fare il noleggio, io e lei acquistiamo lo stesso veicolo e sborsiamo 20.000 euro, questo non è il nostro costo. Il nostro costo lo sapremo tra quattro anni, quando andremo a vendere il veicolo. Supponiamo che lei percorra 10.000 chilometri all'anno e io ne percorro 60.000. Fra quattro anni vendiamo la stessa auto. La sua ha 40.000 chilometri, la mia ne ha 240.000. Lei realizzerà, dico una cifra a caso, 8.000 euro, io 2.000 euro. Lei ha speso 12.000 e io ne ho spesi molti di più. Ecco che allora noi diamo, oltre a un risparmio, diamo comunque un costo certo. Perché al momento della stipula del contratto, stabilito la durata e la percorrenza, diamo già al cliente un costo che sarà uguale dal primo all'ultimo mese. Puoi senza contare, se non ho capito, poi ovviamente spiego anche un po' cose pratiche, senza contare uno le rotture che uno non sa cosa succede, perché magari è chiaro le macchine nascono tutte in buone condizioni. No, no, che sia comoda e non c'è dubbio. Però quando poi tra tre anni si rompe la frizione, succede il rischio, succede qualcos'altro, sono dolori di testa, anche perché ho uno stipendio fisso, magari ho delle entrate programmate, in questa maniera, uno classico, ho speso 5.000 euro, 6.000 euro. Però Zambon, guardi che ho una sorpresa per lei a proposito di questo. Vediamo. Ma andiamo guidando al regia il video e poi facciamo commentare al signor Zambon. Gli americani vogliono entrare con il 15% delle reazioni. Non a caso il bilancio del primo trimestre è aumentato del 22%. Sì, la Expo HPS conferma che... Scusate, mi sono accorto adesso. Mi chiude il meccanico, devo andare. Meccanico? No, non, no, non! A presto! Ecco qui abbiamo questa sorpresa per lei, però era proprio quello che stavamo dicendo prima, cioè alla fine quante volte è successo a tutti, ah prendo una macchina, anzi spendo meno perché prendo una macchina che costa meno e poi ti arriva la fatturina dopo un anno o un anno e mezzo, ci rompe qualcosa, anche perché poi magari hai voluto anche risparmiare sull'assicurazione, oppure magari non so, fondo ghiacciato hai preso qualche sportellata, qualche striscetto eccetera, invece qui è tutto compreso, cioè quindi è una logica completamente diversa. Poi anche un fatto secondo me da dire è che mai come in questo periodo, infatti sono anche molto contento che voi stiate facendo proprio un'attività di conoscenza di quello che siete, perché mai come in questo periodo in cui la crisi fra virgolette economica e anche finanziaria ha portato le persone a valutare tutti gli aspetti economici delle loro entrate e delle loro uscite, poter dire lascio 500-600 euro al mese per la macchina e ritirare i concessionali, una macchina con 500 euro dopo aver fatto magari giorno prima un bonifico, con tutto compreso, posso dirlo, ho provato anch'io fra virgolette, è una bella sensazione. Sì, può essere anche questo motivo, non c'è esborso di capitale e quindi soprattutto magari in questi periodi di incertezza che magari o non si ha disponibilità oppure si ha più propensione a risparmio, non c'è l'erosione del capitale. La ringrazio anche per lo spot dove un po' il messaggio che volevamo dare senza pensieri, nel senso, ecco, quello che è passato era un intervento di meccanica di natura straordinaria, ma succede soprattutto quando i veicoli raggiungono una certa anzianità. Noi ci fermiamo a 5 anni, non andiamo oltre con la vita auto di un veicolo, con un campione significativo di 150.000 veicoli abbiamo fatto delle analisi dove si ferma la convenienza ad andare oltre, perché si ammortizza la spesa iniziale di acquisto del veicolo in un periodo più lungo, però i costi di manutenzione straordinaria a volte superano abbondantemente questo risparmio, cosa che ho anche notato quando ho fatto analisi economiche su aziende con centinaia di veicoli che li tenevano fino alla morte naturale e c'era un risparmio sulla voce ammortamento di bilancio, però le spese di manutenzione straordinaria girano. Poi nello spot c'è anche un altro messaggio, lasciati guidare, ecco il nostro compito è anche questo, noi assistiamo il cliente dalla fase di scelta del veicolo, c'è un altro aspetto di attualità oggi, il cambio delle motorizzazioni, il diesel ci sarà, non ci sarà, l'ibrido, l'elettrico, se oggi acquisto un veicolo, fra 4-5 anni che vorrò cambiarlo? Che scenario ci sarà? Il modello nuovo, ma anche il modello nuovo, perché poi la cosa più semplice è il modello nuovo. Questo è il modello, tra l'altro il ciclo di vita dei veicoli, dei modelli, anzi si è accorciato e quindi questo comporta che si tenda a cambiare l'auto più velocemente. Però c'è l'incognita motorizzazione e il processo di elettrificazione che è in corso, adesso ci sono molti veicoli anche di fascia utilitaria totalmente elettrici, ibridi, ibridi o plug-in, se oggi compro un veicolo che non è di ultima generazione, fra 4-5 anni quando vorrò cambiarlo avrà ancora un valore il mio bene? Ecco, tutti elementi di incertezza che noi riusciamo a liberare il cliente, dandogli appunto un prodotto dove sin da oggi sa quanto spenderà. Esatto, non ci sono sorpresi. E gli spagnoli ho detto, avevo spiegato prima, insomma, riusciamo a generarlo perché acquistiamo noi, come se fossimo un gruppo d'acquisto per i clienti. Quindi un canone fisso, non cambia con eventi, il canone rimane sempre lo stesso, se all'inizio è 1000 euro rimane 1000 euro anche dopo 3-4 anni. Un ultimo aspetto, dopo il cliente, alla fine dei 4 anni, non ha nessun vincolo di riscatto, maxi canone, qualcosa che un po' lo leghi al dover... Se si è trovato bene, ordina un altro veicolo. Esatto, nessun video. Scoperiti che... Chiaro, vuole fare anche lei, vuole firmare subito un contratto anche lei. No, io ho appena cambiato macchina, ma ci ho pensato molto a questo fatto del noleggio e probabilmente la prossima macchina che prendo sarà il noleggio. Ma guardi, le dico, scoperiti... Quasi sicuramente. Prima, così era giugno, lui, mio amico a Londra, italiano, però ovviamente abbiamo parlato, chattato in italiano, mi ha detto, eh ho preso la macchina nuova, Jaguar, eccetera, senza fare... E io gli ho chiesto, ma quanto l'hai pagata? E lui mi ha riposto, l'affitto per 700 pound, cioè sterline al mese. Cioè, noi abbiamo ancora il concetto dell'acquistare di una cosa nostra, invece per loro è normale che sia affittale, perché giustamente la variabile di mercato, un evento atmosferico, cade un albero, faccio un incidente, eccetera, io sono coperto, basta, non devo più pensarci. In effetti è un'evoluzione. Ecco, allora, Zambon, grazie della sua disponibilità, ci è fatto molto piacere aver avuto queste informazioni. Grazie a voi, con noi, noi andiamo avanti con il nostro stacchetto pubblicitario, però prima presentiamo Giacomo Cusumano, benvenuto Giacomo Cusumano, lei sa che ovviamente l'ultimo che arriva, poi dopo sto a che la offrirà bene tutti qua. Va bene, non c'è problema su questo, quando volete. Ecco, è una simpatica spontanea usanza che c'è qui da noi, va bene, sempre spontanea, non facciamo niente, niente forzatamente. Va bene, allora piccolo stacchetto pubblicitario, poi torniamo in linea e possiamo anche ricordarvi che potete rifare le telefonate da casa, quindi con 049 63 11 11, quindi se avete piacere di fare domande agli ospiti non vi resta che collegarci con la nostra diretta qui su Serenissima TV. A farà pochissimo. A farà pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa, ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. La birra Morgana è una birra sana e ne puoi bere una damigiana. La birra Morgana è una birra. Termoidraulica Bottelli Vasco da oltre 40 anni è partner Eurotherm e Wisman certificata e specializzata in caldaie, pompe di calore, climatizzazione, pellet e impianti fotovoltaici la migliore tecnologia anche con gestione smartphone scegli Termoidraulica Bottelli Vasco SRL contattaci al 049 59 99 252 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Rolex, Omega, IVC, Cartier, Odemar Piguet Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio Radime te lo acquista alla massima valutazione Radime, di Alemino Bixio 31 Treviso Radime.it Bene, eccoci in diretta ovviamente come sapete ringraziamo il nostro main sponsor di Scar Broker come abbiamo detto canone fisso zero pensieri lascia ti guidare nel senso che comunque anche farsi dare qualche consiglio non è mai male noi abbiamo convinto scopelliti allora prossima macchina Giacomo Musumano ci pensa a Jacopo invece ancora in fase di pensiero ancora in fase di progettuale 049 63 11 11 quindi ha molto colpito questa cosa ecco anche noi come trasmissione cerchiamo di dare anche qualche in punto nuovo in pratica questa esperienza del Covid ci ha insegnato che magari certe cose magari si possono fare in maniera diversa non dico migliore o peggiore però sicuramente diverse allora è inutile purtroppo non si torna più indietro pensiamo alle cose nuove, evolute pensiamo a comunicare a fare le cose più efficienti e migliori possibili parliamo un po' di questo di questo Covid di questo DPCM io ormai mi sono così abituato a questo DPCM a questa parola così perché voi sapete che ormai è stata cambiata tutta la normativa italiana c'è l'IPCM poi ci sono le diciamo come dire le ordinanze delle regioni e poi ci sono le ordinanze delle scuole quindi a un certo punto avevamo questi tre ordini legislativi è giusto quindi abbiamo un posto a voto non c'è più il Parlamento non c'è più bisogno del Parlamento forse ha ragione Beppe Grillo Scoppediti sì non c'è più eliminiamo il Parlamento no eliminiamo facciamo un bel sorteggio così scherzo ma insomma ad Atene si faceva così no? cioè si prendevano cioè chi si occupa della cosa pubblica si occupa della cosa pubblica quindi veniva preso non c'erano problemi stavi un anno facevi quello che dovevi fare a Firenze c'erano ogni 15 giorni cambiavano il nome mi ricordo adesso come veniva chiamato però fra virgolette il doge di Firenze veniva cambiato ogni 15 giorni proprio per evitare che potesse diciamo creare danni o collegamenti strani sì sì io scherzo ma in realtà strammatizziamo ci vuole un po' spiegare poi magari ho detto a Maltauro Maltauro prima della puntata studiati bene questa cosa del DPCM adesso tra l'altro grazie Marchetto e Giulie sopra regia 049 63 11 11 se qualcuno vuole fare qualche domanda pepata oltre che sul non legge a lungo termine anche sull'occasione perché ovviamente abbiamo la consulenza gratuita di Paolo Zabon è titolare quindi 17 anni di esperienza certo sono importanti però entriamo nel vivo io mi sono incavolato un altro giorno ho messo un post che è stato ovviamente frainteso che in Italia le cose vengono diciamo proclamate 4-5 giorni prima fra 5-6 giorni faremo un DPCM con queste e poi puntualmente questo DPCM non c'è stato è stato modificato ma perché questa volta sempre questa cosa prima bisogna far vedere che arriva chissà che cosa il cataclismo poi alla fine si riduce c'è un 10% però la gente poi si spaventa non conclude affari si chiude in casa va a fare la spesa al supermercato quindi io non ho se devo essere sincero non ho questa impressione che ci sia questo questo fatto che che non ci sia cioè c'è un un disegno ben preciso i provvedimenti vanno annunciati vanno votati se è possibile quando è possibile votarli quando qualcuno non scappa dal Parlamento per non votarli ecco oggi riferimento ogni riferimento si faccio riferimento al fatto che in maniera piuttosto strumentale le opposizioni sono uscite per 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 togliere la numero legale numero legale ma è legittimo certo che è legittimo eh sia chiaro è legittimo molto legittimo però in una situazione in cui ci sono 40 deputati in quarantena 41 grazie Giacomo insomma era ovvio che non c'erano solo quelli in quarantena no ne mancavano altri è vero però va beh si poteva fare diversamente io ovviamente avrei preferito che rimanessero in aula a votare contro poi la questione del decreto del presidente del consiglio dei ministri è una cosa è un tecnicismo ma in realtà è un tecnicismo che non è fine a se stesso no c'è una situazione straordinaria e allora alcune eh il presidente del consiglio può fra virgolette legiferare però poi tutto quello che si decide nei decreti viene sottoposto al vaglio della delle due camere e se c'è una una presa di posizione rigida da parte delle camere il decreto può essere anche cancellato quindi è un tecnicismo ma insomma voglio dire poi ha assolutamente valore il decreto ha valore di legge quindi non vedo grandi problemi d'altronde quando ci sono problemi specifici bisogna affrontarli immediatamente no con i mezzi più rapidi e più efficaci possibile nel merito la questione del adesso noi abbiamo un'impennata dei dei contagi oggi 3661 per dire no un numero certo non sono i 15.000 della Spagna i 20.000 della Francia ma vogliamo veramente arrivare a 20.000 casi al giorno cioè a me sembra una follia quindi è bene che io mio malgrado dico e aggiungo mio malgrado perché io non la sopporto proprio la mascherina beh questa un po' sì perché hai i colori giusti ma non se la provi a mettere come i nostri telespettatori possono vedere per parco di gioco mi toccherebbe poi espulgola dal mi spiace non sopporto di tenere la mascherina però insomma come i colori strani che non capisco quali sono che non capisco quali sono mero e azzurro non vedo io da lontano se serve a non far prendere il covid a mia figlia a Irene allora me la metto volentieri però in casa possiamo non usare la mascherina con i congiunti però se arrivano degli amici per esempio io ho qualche amico che non sta tanto bene e io quando arrivano loro a casa mia mi metto la mascherina perché da mia madre non vado per esempio che ha 91 anni con mio grande disappunto perché perché siccome tengo a mia madre preferisco che non che non corra rischi insomma allora Maltaolo visto che comunque lei è il giovanissimo primo della serie allora ci spiegaci un attimo come funziona questo diciamo che non è più di PCM ma di fatto è una specie di ordinanza nuova direttiva del ministero in pratica la mascherina adesso si userà sempre cioè io posso devo camminare per la strada devo avere la mascherina nei luoghi pubblici cioè alla fine bisogna tenerla sempre a parte a casa mi pare di capire mi permetta di rispondere intanto direttore al collega di Italia Viva che giustamente attaccava le opposizioni perché hanno fatto saltare il numero legale piuttosto di attaccare le opposizioni io mi preoccuperei di più perché su un caso una casistica di questa importanza di questa rilevanza politica quale il decreto cioè le maggioranze non erano in aula non stiamo parlando solo di chi era in quarantena o di chi aveva in casa il covid e quindi non poteva essere in Parlamento stiamo parlando delle maggioranze che per ben due volte non sono state presenti nel numero legale e questo indica il fatto lei la chiamava inizialmente la presentava come incoerenza del governo io direi coerenza nella negatività nella negatività continua e costante da parte di un governo che propone degli atti amministrativi ma che non ha neanche la maggioranza per andare a votarli in Parlamento e questo è un dato politico a mio avviso incontrovertibile sotto il profilo invece del merito del DPCM mentre il modello ad esempio del signor Zambon credo che sia contraddistinto da visione lungimiranza aziendale da un lato e dall'altro un rapporto consolidato col cliente che si va incontro al cliente questo DPCM ma come in generale l'azione politica governativa in generale del governo non è mai stata contraddistinta da una visione lungimirante perché l'incertezza è ormai pervasiva nel sistema italiano e dall'altra parte il rapporto col cittadino non c'è lei giustamente chiede al consigliere delegato di Vicenza di spiegare un DPCM quando il presidente Conte ha fatto fatica ad esprimere quelle che sono la chiarezza del DPCM allora Giulio Andreotti diceva la prudenza in politica è una virtù ma l'incertezza fa danni enormi l'incertezza fa danni enormi di conseguenza io consiglierei giustamente di intervenire su questa emergenza e non siamo più allo stato di aprile o di marzo ma di intervenire perlomeno con chiarezza politica sì ma forse se quello che diciamo potrei essere d'accordo come valutazione su quello che ha detto lei Maltauro cioè effettivamente arrivo arrivo scoperti cioè nessuno mette in dubbio il fatto di dover porre le dovute cautele per contenere il virus attenzione io sono il primo ad usare la mascherina ce l'ho sempre in tasca perché se non me la dimentico qui stiamo parlando del clima che viene sempre creato ad arte specialmente con certe testate giornalistiche vicine al governo che puntano in continuazione il sensazionalismo più 60% di morti e magari i morti questo è successo 10 giorni fa i morti da 4 sono passati a 7 cioè quindi però non dicono che a 4 a 7 dicono più 60% quindi ci succede sicuramente questo poi io penso che un governo serio dove non siamo in grado ancora deciso cosa fare faremo questa cosa ve lo diremo invece è sempre così prima 4 giorni prima si deve sapere cos'è poi trattative fra le parti i bari ma non devo parlare io Cusumano parli lei che non è d'accordo su questa impostazione cioè più che si mettono d'accordo no togli qua no non mi toccare i baristi non mi toccare i ristoratori perché lunedì si era detto così chiusura anticipata dei locali mascherina vertuti poi DPCM immediato invece DPCM no lasciamo qualcuno Zigaretti si è esposto dicendo no lasciamo stare i ristoratori evidentemente c'è qualcuno che ha timore della ricaduta economica finalmente però questa è la cosa brutta l'incertezza l'incertezza non faccio le cose quindi perché è cascata è successo anche a me ho messo un posto l'altro giorno non faccio niente non ti ricevo Carlo Dovino perché non so che cosa succede con DPCM qua magari ci chiudono e quindi ci vediamo fra 15-20 giorni sicuramente sicuramente abbiamo delle situazioni di incertezza ci sono delle situazioni di difficoltà sono mondiali l'Italia su questo in Europa è praticamente lo stato tra i più virtuosi se non il più virtuoso visto il numero di contagi che ci sono stati negli altri stati e il modo in cui abbiamo ripreso si parla infatti in Europa di modello Italia per la gestione del Covid sicuramente abbiamo avuto una visione molto rigida nel senso che la visione è stata andiamo subito in protezionismo già da tempo io al sindaco Giordani di Padova e comunque anche sui social ho detto qual era il mio punto di vista ancora prima del decreto perché mi ero accorto insomma che indossare la mascherina all'aperto quando si vede che c'è un luogo affollato insomma mi sembra una roba già dovrebbe avvenire spontaneamente ma forse c'è bisogno di spiegarlo ancora di più alle persone da qui poi nasce anche la necessità di implementare il controllo quello delle forze dell'ordine sostanzialmente per quanto riguarda le persone che non la indossano o che non la indossano correttamente io penso che prima che ci sia una multa una persona che non indossa la mascherina deve esserci un fatto grave cioè vuol dire che c'è una persona non masca a proposito di questo devo raccontare una situazione a me sa che piace per andare in giro a intervistare le persone a capire perché non voglio essere solo io pieno della mia idea sono andato fuori all'università a Padova ho chiesto ai ragazzi ragazzi scusate ma la mascherina la indossate tutti? si si la indossiamo tutti ci mancherebbe ma proprio tutti si si purtroppo i professori riprendono questa la devo dire perché è simpaticissima i professori riprendono noi alunni che non abbiamo la mascherina ma quelli che vengono ripresi sono quelli che hanno la sua età mi hanno detto la mia età cioè che sono giovani come me 40 no no quelli della sua età con i capelli brizzolati noi giovani invece ce l'abbiamo tutti cioè ecco questa mi fa ancora più strano perché poi vediamo lei Maltauro perché qua vi ricordate quest'estate contro la movida i giovani scalmanati che alla fine mi sa che siamo noi anziani noi vecchi che ci rifiutiamo di rispettare le regole scusi che il consuma non si è interrotto ma sicuramente bisogna andare a verificare quelle che sono le tipologie di persone per tipologie intendo fasce d'età zona di residenza tutta una serie di fattori che possono incidere su questa cosa è chiaro che i giovani che non hanno diciamo così uno stile di vita penso a un ragazzo di 20 anni non ha uno stile di vita formato diciamo mentre una persona che ha 50 55 45 anni che ha più tempo su questa terra ha usi, costumi e tradizioni più marcate io stesso purtroppo purtroppo e qui lo ammetto adesso con l'aumento delle multe devo stare ancora più attento però più di qualche volta mi capita che scendo da casa arrivo in macchina e dico a cavolo la mascherina e allora mi sono organizzato a metterne package perché ritengo qualche macchina nonostante tutto qui non c'entra l'età a tutti invece magari a un ventenne a un sedicenne che è nella fase di imprinting più forte tra le fasi di imprinting più forte della sua vita della sua crescita apprende subito questa cosa infatti su questo bisogna stare attenti non a chi ha 16 17 18 anni ma a chi ha 7 8 6 anni stanno purtroppo perché ricordiamo io tendo sempre a ricordarlo il nemico è il virus che il governo potrà fare i suoi errori senza dubbio ma il nemico principale è il virus che sta mettendo in crisi il mondo non dimentichiamocelo mai e sui più piccoli bisogna trovare delle soluzioni subito perché ci sono delle modifiche comportamentali che stanno assumendo che non erano proprio non del secolo scorso ma di 2-3 anni fa nella crescita e bisogna cercare di far sì che invece loro continuano a ingegnarsi continuando a andare incontro alle necessità perché sono queste poi sono le necessità che dobbiamo soddisfare dei più piccoli che stanno avendo una formazione estremamente particolare basta pensare ai ragazzini che hanno iniziato la prima volta la scuola nel 2020 hanno un sistema di ingresso che per noi sarebbe è alieno di fatto ecco però Maltaro prima dicevo i giovani c'è stato periodo anche la Campania per esempio il presidente De Luca che ogni tanto sferza i giovani contro le feste contro le movide sembra che la colpa della diffusione del virus è colpa dei giovani però l'esempio che l'ho fatto prima è vero nel senso è un'intervista che ho fatto dei giovani universitari quindi sembra che questo qua ce l'aveva la mascherina ma non la usa perché non la dice non è giusto usarla è preoccupante però i giovani sembra che siano invece magari voi siete quelli più rispettosi ma mi permette di dire dire direttore molto semplicemente che credo di dire una cosa ovvia che isolare socialmente un giovane di 15, 16, 17, 18 anni non è assolutamente semplice noi abbiamo isolato i giovani perché c'era un chiaro stato di necessità di emergenza e i giovani sono stati diligenti i giovani in Veneto a Vicenza nella mia città diligenti responsabili hanno dimostrato una capacità di comprensione della situazione generale veramente eccellente quindi io spesso ho l'onore e anche l'onore di rappresentare tutti i giovani della città di Vicenza come consigliere delegato e spesso mi sono anche arrabbiato quando sentivo che la colpa era dei giovani per il contagio o per l'aumento dei contagi assolutamente no i giovani hanno dimostrato una responsabilità all'interno sia della quarantena sia del lockdown e sia poi in uscita al lockdown e questo secondo me è incontrovertibile e va fatto tanto di capello e anche nutra fiducia alla parte politica vedere che il mondo giovanile risponde così bene lei portava l'esempio di Padova io le porto l'esempio oggi come consigliere delegato ho incontrato un rappresentante di istituto del liceo Fogazzaro del centro cittadino di Vicenza che mi raccontava ad esempio che a scuola nel liceo Don Giuseppe Fogazzaro si sono organizzati bene la preside è intervenuta in maniera eccellente sono stati lì dalla mattina alla sera a capire come contenere la situazione e come renderla efficace ma il suo esempio e il mio esempio non è l'esempio del governo il modello Italia quello di cui si parla tanti in Europa non è un modello contraddistinto dall'azione politica del governo è un modello contraddistinto dalle singole azioni della realtà sociale italiana parliamo della scuola parliamo dell'università parliamo dei sanitari parliamo del tessuto sociale un Veneto su cinque in Veneto fa volontariato vuol dire che ha una predisposizione sociale importante questo ha salvato il sistema il modello politico dimostrato dal governo a mio umile avviso non è quello che ha contraddistinto il modello Italia a livello europeo assolutamente va beh sta di fatto che però questo governo governa e le situazioni virtuose che ci sono in Italia sono frutto anche dei DPCM dei tanto vituperati DPCM perché se no l'anarchia perché è facile dire noi siamo molto responsabili parliamo dei ragazzi per esempio io ho un'amica su Facebook che tutti i venerdì mette la foto dei ragazzi in piazza dei signori a Padova ci sono centinaia e centinaia di ragazzi che non hanno la mascherina che si abbracciano si baciano e fanno quello che vogliono allora dov'è la responsabilità perché poi vedete il problema qual è il problema è che un figlio mio di 25 anni di 28 anni magari asintomatico poi torna a casa bacia il papà e il papà si prende il covid cioè ha capito qual è il problema il problema è il ragazzo può diventare un'inconsapevole fonte di contagio Berlusconi dove se l'è preso il covid? Briatore Briatore dove se l'è preso il covid? Berlusconi Barbara è andata a Ibiza e quando è tornata ha baciato papà e papà si è preso il covid insomma mi permette di dire che gli aperitivi li ha fatti anche il signor Zingaretti segretario del partito democratico a livello nazionale era anche febbraio anche Lorenzoni era anche marzo quindi parliamo che tutte le persone hanno avuto dei momenti di debolezza non hanno compreso fino in fondo come l'ultimo ma i giovani a mio avviso hanno dimostrato non volevo colpevolizzare nessuno tantomeno i ragazzi qua il problema mio Jacopo sai qual è? il problema è che i ragazzi devono andare a scuola perché per me la scuola è fondamentale io sono disposto a fare qualunque sacrificio perché i nostri ragazzi continuano ad andare a scuola continuano ad andare all'università sono disposto a fare qualunque sacrificio perché la macchina produttiva del paese non si fermi ok ma per fare questo oggi ho sentito Anthony Fauci che diceva ragazzi inutile rassegnatevi perché i problemi economici della pandemia dureranno 4 anni 19 20 21 e 22 forse solo nel 2023 avremo ritorneremo dove avevamo lasciato l'economia nel 2019 è raggelante per certi versi no? perché questa è la situazione ma infatti su questa cosa voglio dirvi che oggi purtroppo sono curioso io chiedo sempre perché parto sempre dal presupposto qualcuno magari non ha il mio stesso atteggiamento il mio presupposto è sempre di essere ignorante allora siccome l'ignorante si informa oggi ho avuto un lungo colloquio con un medico di medicina generale che mi ha detto una cosa che alla fine è semplice ma è molto chiara il covid cioè questo quindi possono esserci una stessa famiglia dati statistici persone asintomatiche persone che hanno magari i ragazzi sono asintomatici la moglie ha un semplice raffreddore mal di testa e il papà invece finisce in rianimazione quindi è sempre il covid però il modo nostro di reagire a questo tipo di malattia evidentemente è diverso e quindi questa fattispecie determina questi savorgimenti per cui magari uno dice a noi piace guardare quello che ci piace di più ma quelli sono tutti asintomatici non succede niente poi magari vediamo che nella stessa famiglia c'è qualcuno in rianimazione ed è la stessa famiglia ogni corpo reagisce evidentemente in una maniera diversa pubblicità a Grazie a tutti 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 Barconi Grazie a tutti 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 In Italia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti